Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e sarà il video spacchettamento poiché mi sono appena arrivati due pacchi di un ordine di quasi 200 euro dove però all'interno non ci saranno soltanto prodotti ordinati dalle mie clienti ma anche i regali che mi ha fatto la mia azienda per il lavoro svolto, per un lavoro svolto bene e sono circa tipo 600 euro di regali quindi non vedo veramente l'ora di vederli e di attivare tutto allora sono due pacchi, uno più piccolo e uno più grande siccome quello più grande è sotto, apriamo prima quello piccolo ecco qua, allora, pacco aperto, togliamo questa carta e che cosa troviamo qua? Qua troviamo pochi prodotti perché appunto era il pacco un po' più piccolino allora, adoro veramente sta per arrivare un protagonista ciao amore, non sono per te allora vi dicevo, questo è il nuovo mascara metamorfoso della nuova linea occhi appunto di Yves Rocher ce ne sono tantissimi ma questo è praticamente il più completo dove abbiamo sia la proprietà di volume, lunghezza e curvatura e oltretutto è veramente al 100% vegetale perché contiene sia l'acqua di fior d'aliso che va a alleggerire gli occhi ad esempio se abbiamo occhi stanchi o sensibili e il carbone vegetale che appunto va a dare il colore nero tutto quanto vegetale quindi abbiamo il metamorfoso poi vi faccio vedere veramente quante ne hanno prese le mie clienti allora, queste sono le maschere botaniche sono fantastiche e questa qua c'era l'offerta 2x6,95 contate che una costa 5,95 euro quindi veramente le mie clienti hanno fatto scorta perché sono buonissime poi, vabbè, campioncini poi abbiamo questi due che vi faccio vedere in set praticamente nei primi 10 giorni dell'album se siete clienti privilegiati consulenti di bellezza, capogruppo insomma, se aprite il vostro codice potete approfittare di una fantastica offerta appunto soltanto nei primi 10 giorni dell'album in questo caso, questo mese c'era questa salvietta logata in brochet un asciugamanino stupendo e in più questi due campioncini della nuova linea UO poi abbiamo questi due roll-on posso fare? roll-on occhi per appunto le occhiaie all'acqua di fiore d'aliso veramente buonissimi e poi questo che è un correttore poi cosa abbiamo? questo che è un guanto struccante veramente buonissimo e faceva parte di una super offerta di un set vi stavo dicendo prima che mi si spegnesse il video che questo guanto appunto faceva parte di una super offerta dei volantini di questo mese che durano fino ai 15 non siamo ancora ai 15 dove abbiamo il siero e la maschera viso dell'Hydra Vegetal a soli 14,95 euro abbiamo anche il guanto struccante che è veramente formidabile e poi abbiamo questa che è tipo un prodotto stupendo che è il lisciante che è il fluido lisciante che appunto si può utilizzare prima ad esempio della piastra e oltre che a mantenere i capelli lisci e ovviamente sempre in maniera naturale li va anche a proteggere dalla piastra dal calore quindi è un prodotto veramente top e poi abbiamo i cataloghi nuovi cioè il catalogo nuovo che parte dal 19 che però non vi posso ancora svelare passiamo a questo una marea di roba mi scusca c'è veramente tantissime cose allora prima di tutto faccio vedere così perché sennò proprio non mi si vede nemmeno me allora prima di tutto abbiamo altri campioncini tutti per me perché se appunto diventate se aprite il codice cliente diventate consulenti di bellezza eccetera a seconda dell'importo del vostro ordre vi arriveranno più o meno campioncini molto più materiali da lavoro insomma veramente tantissimi regali poi abbiamo questa che è una matita per gli occhi col nera anche questa è nuova della nuova collezione occhi fantastica anche questa ovviamente al 100% vegetale che oltretutto è fatta di un materiale è fatta di legno appunto come vedete è opaca perché è tutto quanto legno e è legno di pino e ha veramente un tratto morbidissimo e ci sono 5 colorazioni diverse quindi se le volete vedere o mi scrivete o comunque le andate a vedere sul catalogo perché sono stupende poi abbiamo questo bagno doccia per pelli sensibili questi bagno doccia qua sono anche consigliati tantissimo per utilizzarli con i bambini poi abbiamo un latte corpo riparazione buonissimo questo qua mi sembra che sia mio perché l'ho ricomprato perché il mio l'avevo proprio finito visto che è molto molto buono una maschera capelli colore che va a rinvigorire il colore dei capelli e tutto va comunque a proteggere il capello dai principi aggressivi dei coloranti del colore che andiamo ad applicare sui nostri capelli poi abbiamo questo che è praticamente il gel detergente della Hydra Vegetal cioè guardate la grandezza e costa mi pare 10 euro però è enorme cioè questo qua vi dura non so per quanto tempo ovviamente lo utilizzate oltre che in occasioni esterne sempre durante la routine mattina e sera veramente vi dura tantissimo io ho quello più piccolino e non l'ho ancora finito quindi figuriamoci poi abbiamo questo profumo uomo ambre noir buonissimo anche questo ce ne sono tantissimi di profumi da uomo che io amo poi uno shampoo colore anche questo da abbinare alla maschera colore perché veramente sono buonissimi un anticellulite questo qua è appunto una crema come se fosse una crema corpo da applicare mattina e sera sulle zone interessate appunto che vogliamo dove vogliamo andare ad agire per togliere quell'effetto buccia d'arancia eccetera è buonissimo anche io ce l'ho e lo utilizzo poi acqua miscellare della Sebo Vegetal che è praticamente la struccante poi abbiamo un balsamo riparazione questo balsamo è veramente buonissimo penso che sia uno dei primi prodotti che io ho acquistato in Yves Rocher e me ne sono proprio innamorata poi abbiamo la camicellare invece della Pure Camomile che questa è la linea viso per pelli sensibili il gel detergente della Sebo Vegetal che appunto questi due insieme erano in offerta soli 10,95 euro se non sbaglio comunque erano in offerta nel catalogo e ok penso di aver finito con i prodotti qua ho altri altri tipo sei pacchetti perché sono i regali che mi ha fatto la mia azienda e ora ve li faccio le uguali ovvero con gli stessi prodotti e ne abbiamo uno due tre quattro cinque e sei cioè vi ho detto ogni pacchettino contiene dei prodotti che sommati sono all'incirca 100 euro quindi sei pacchetti 600 euro di regali quindi questo vuol dire che se io vado a rivendere questi prodotti perché sono rivendibili io guadagno 600 euro ovviamente oltre al guadagno di questo mio ordine e poi infine ho il mio pacchetto di album nuovi quelli che usciranno 19 per sia per me per i miei clienti e per tutte le mie ragazze del team allora vi faccio vedere appunto ehm all'interno dei pacchettini regalo quali sono i prodotti che l'azienda mi ha regalato allora prima di tutto tutta la linea viso non si vede ok tutta la linea viso dell'anti age global dove abbiamo il trattamento illuminante la crema viso classica sublimante e il siero sì e il siero ok quindi abbiamo questi tre prodotti e in più abbiamo una novità praticamente questo prodotto è sempre un'aggiunta sempre della linea dell'anti age global e è il concentrato bifasico da notte quindi va utilizzato tutte le sere applicato cioè il contagocce poi ve lo farò vedere su tutto il viso e contiene il 98% degli ingredienti di origine naturale quindi che cosa va a fare questo siero durante la notte va a due fasi semplicemente la prima è la fase dell'olio che è riparazione quindi va a riparare la pelle appunto come avete capito è una linea per pelli più mature che comprende tutte quante le linee come potete vedere sul nostro catalogo ci sono appunto per pelli più mature diverse linee di viso questa la linea dell'anti age global è la più completa quindi dove trovate tutte quante le proprietà messe insieme quindi la prima fase del siero dell'olio è la fase di riparazione mentre la seconda fase la fa il siero che è la fase rigenerante potete comunque trovare tutto scritto più informazioni comunque più cose dettagliate e vi fornirò tutte quante le risposte allora questi qua della linea anti age che vedete sono tutti quanti i regali appunto che vi avevo detto che l'azienda mi ha fatto e volevo sottolineare una cosa prima di tutto questi erano dei pacchetti quindi in un pacchetto solo c'era la crema il siero il correttore l'illuminante il correttore illuminante e il siero notte ma questi qua tutti questi regali non li riceviamo soltanto perché ad esempio siamo capogruppo o perché siamo solo consulenti di bellezza questi regali li possono ricevere chiunque quindi è un'altra delle cose stupende del nostro lavoro perché solamente presentando una persona in azienda un'amica un'amica lontana una conoscente che ad esempio inizia a lavorare e qualifica in meno di due mesi chi appunto l'ha presentata riceve tutti questi regali quindi potendoli anche rivendere si può anche guadagnare oppure si tengono per noi ad esempio questa linea anti-age io ad esempio non la utilizzo per me ma i regali scorsi ad esempio tutti quanti i trucchi alcune cose ovviamente mi sono scelta quindi oltre che rivenderli e guadagnarci possiamo anche avere dei prodotti per noi completamente gratuiti e niente guardate qua tutti quanti quanto sono belli e niente volevo sottolineare questa cosa perché è una delle cose meravigliose della nostra azienda quindi grazie mille per aver guardato questo video adesso vi farò delle foto farò vedere tutti i prodotti messi insieme insieme ai regali grazie di essere arrivati fino a qua un bacione e ci rivediamo al prossimo video grazie a tutti Grazie a tutti.